Questa riunione è per parlare con gli altri genitori che magari hanno avuto problemi di bullismo o non sanno come comportarsi e chi può aiutarli. Vogliamo dare informazioni, raccontare un po' la storia, per far capire le gente che non sono soli. L'appuntamento è per le 20.30 all'oratorio di Maserada, un modo per condividere esperienze ma soprattutto per agire contro un fenomeno, quello del bullismo, che sembra interessare sempre più giovanissimi anche nella marca. A organizzare la serata i genitori di quel bambino preso di mira da alcuni coetanei in comune di Breda, episodi per i quali si sta indagando per istigazione al suicidio, atti persecutori e lesioni impersonali. Non a caso ci sarà anche un esperto di autodifesa. Ci sarà anche un insegnante di Krav Maga, un amico nostro, che è un attimo marziale israeliano, che fa anche difesa personale, che aiuta i bambini a buttare fuori tutta la rabbia e le donne a proteggersi. A precedere l'incontro anche qualche polemica via social. C'è chi ha contestato per esempio come i fatti siano avvenuti a Breda, ma la serata si tenga a Maserada in generando confusione, non solo. Perché vieni nel nostro comune? Perché devi lavare i tuoi panni sporchi in pubblico? Vergognati, è un minorenne. E io ho detto sì, è un minorenne, esattamente per questo dobbiamo fare qualcosa.